In diretta, buongiorno ancora e benvenuto a TRM Mattino, terrasmissione che cerca di entrare nei territori, occuparsi delle varie cittadine meravigliose della nostra Sicilia, attraverso gli ospiti che ci vengono a trovare, attraverso le collaborazioni che continuano come quella col caledoscopio delle Madonie, il caledoscopio, saluto Adalgisa, saluto il buon Lapunzina, saluto tutti quelli che in questi mesi ci accompagnano e soprattutto il giovedì c'è il focus su delle notizie interessanti che trovate sul sito, quindi il caledoscopio delle Madonie che potete trovare anche sul web, tra poco vi faremo vedere le immagini grazie alla nostra regia coordinata come sempre da Ino Sfameli, grazie a Ino, responsabile del broadcasting, il nostro Luigi Vitale, ecco qua, il caledoscopio delle Madonie, la notizia in primo piano oggi che riguarda Termini Merese, ritorniamo su Termini Merese, in libreria il romanzo della pasta italiana di Nunzio Russo, un saggio di etnostoria, di agevole lettura, pensate che parole meravigliose, passiamo dall'organo col maestro Gaiezza che arrivava da Ribera a un'altra storia meravigliosa, un patrimonio, insieme ai nostri ospiti che vi presento abbiamo l'autore, lo scrittore Nunzio Russo, buongiorno, quindi con lei parleremo di questo romanzo meraviglioso, cercheremo di appassionare i telespettatori siciliani, che dice? È pronto? Sicuramente, è una bella storia antica e che ha anche dei risvolti al presente, ecco, appassione anche al presente. Insieme a lei c'è una docente, professoressa Francesca Caronna, docente del liceo classico Uctulena di Termini Merese, professoressa di lettere, latino e greco, io lì comincio a tremare, perché devo essere, io sono uno che ha studiato, almeno ci ha provato al liceo classico Uctulena e devo dire che con latino e greco avevo un certo tipo di rapporto, ancora ad oggi sto cercando di capire, però, insomma, professoressa non è facile, latino e greco sono due materie difficili, eh? Eh sì, difficilina, diciamo. Soprattutto le versioni, insomma, mi ricordano ancora i tempi delle versioni, soprattutto quelle di greco. Però una volta che uno traduce il greco poi tutto il resto diventa più semplice. Ma poi questa leggenda che facendo il liceo classico comunque ti si apre un mondo, insomma, anche pieno di tante prospettive, è vero, insomma, sfatiamo, perché oggi poi si prende in giro anche il fatto che se fai il latino, se fai il greco, che cosa fai? Perché, insomma, non ti serve. Non è vero, lo diciamo, professoressa, che fare latino e greco serve per la vita. Difendiamolo il latino e greco. Difendiamo il liceo classico a spada tratta su questo, non c'è dubbio, perché comunque è una questione di metodo, una questione di impostazione, di logica. Assolutamente. E allora, è uscito il libro Il romanzo della pasta italiana di Nuncio Russo, scrittore termitano e discendente di un'antica famiglia di produttori di pasta alimentare siciliana. Il libro è disponibile in un formato cartaceo, ma anche in e-book, e appunto avete questa possibilità, in 80 pagine, la storia della pasta secca, e traccia un affascinante percorso storico della pasta alimentare accompagnato da una cinquantina di immagini, quindi un libro molto importante. E qua stiamo vedendo delle immagini in occasione della presentazione, e allora cominciamo a parlarne. Questa tradizione importante che tra l'altro proprio lei ha vissuto. Sicuramente io ho vissuto la parte finale di questo, diciamo il crepuscolo di questa grande tradizione industriale della nostra città. Tra l'altro e in più vorrei dire che è meritevole le azioni che la città sta facendo, sta compiendo attualmente per andare a ricostruire anche questa memoria nei cittadini. È un'opera per la quale ringrazio la città e alla quale io mi sono dedicato sin dalla giovinezza, proprio entrando negli archivi dell'azienda di famiglia e incominciando a raccogliere documenti, testi, storie, il verbo soprattutto degli antichi, delle antiche tradizioni. Ecco, lì è nata questa opera che attraverso il tempo è diventata appunto questo domanzo che va ad accompagnare anche una mostra che di recente è stata realizzata e presentata un po' in giro con molto successo in tutta Italia. E allora, non si può dire esattamente dove e quando è nata la pasta scrivere un cerusso nelle prime pagine del suo libro perché appare sulle nostre tavole grazie alla buona volontà di quella prima massaia siciliana che ha messo insieme semola di grano duro e acqua a forza di braccia. È un'immagine fantastica. Adesso la commenta anche lo scrittore, ma la commenti anche lei questa immagine, lei essendo professoressa di lettere di latino e greco, che immagine bucolica, eh? Un'immagine bucolica, un'immagine del vero lavoro, cioè quello che nasce dentro la famiglia, quello che è nelle mani delle donne, diciamolo, perché le donne sicuramente hanno sempre lavorato, non sono state mai a guardare. Ed è un'immagine proprio che, come dire, dirime la querelle del territorio, dove sarebbe nata, proprio a partire dal geografo arabo. Però il problema non è questo, il problema è capire quello che ha rappresentato la pasta per questo territorio e quello che potrebbe rappresentare anche per il futuro. Ma il territorio lo ha capito, perché io mi chiedo, noi ne parliamo, il libro c'è, tra l'altro usciamo fuori da una manifestazione come il Carnevale di Termini Merese, dove ringrazio il pubblico che ci ha seguito e mi ha seguito anche nella diretta di Domenica 15, dove era protagonista anche la pasta con i Maccaruna, famosissimi, e tra l'altro anche lì c'era, c'era la situazione dei chimici nazionali, proprio per l'importanza del grano, insomma ritornare alla tradizione e tutto quanto. Ma dico, dopo anche questa situazione, il territorio capisce l'importanza? Se si insiste, io faccio l'insegnante, con l'insistenza sicuramente il territorio può rispondere. Perché non possiamo limitarci al fast food. Il libro è stato presentato all'istituto, al liceo scientifico Niccolò Palmieri, giusto? Come mai non è stato presentato al classico? Ecco, un po' di patriottismo, sano patriottismo, dico, lei era, dico, si poteva presentare anche al classico, si può presentare dovunque. Si può presentare dovunque, appunto, quindi il problema diciamo non è quello, semmai magari è una questione di struttura, l'auditorium si prestava un po' meglio, ma non è questo il problema, l'importante è che c'erano i ragazzi. Come hanno reagito, Nunzio Russo, come hanno reagito i ragazzi alla presentazione? In genere, siccome questa è una presentazione già nata in PowerPoint e che ha girato un po' tutta l'Italia e anche fuori dall'Italia, quindi siamo stati nelle università sia italiane che anche estere con l'Università Minnesota, in genere il pubblico reagisce molto positivamente a queste storie e i ragazzi in maniera particolare, devo dire, tra l'altro così mi hanno detto alcuni dei presenti a questo bel convegno sui grani duri siciliani dove sono stato graziosamente invitato dagli organizzatori e lì ho avuto il regalo della casa editrice di avere subito pubblicato, quando hanno saputo che andavo nella mia città a parlare di pasta, di avere subito pubblicato per quella data il libro. Mi è stato comunicato la sera prima alle 10 di sera che lì domani sarebbe stato online il libro. Si parla di pasta e si parla soprattutto in un'annata particolare, sappiamo che il primo maggio scatta l'Expo 2015 che quest'anno è proprio basato su questo tema. Ecco, voi come vi state comportando a scuola? Insomma state indirizzando i ragazzi verso una giusta linea alimentare? Sì, diciamo che a scuola è assolutamente necessario perché per quello che vediamo fuori, per il fast food eccetera, come dire, educazione alimentare deve entrare diciamo come dire di diritto all'interno delle città. Secondo me ci sono pochi ragazzi che mangiano un vero e proprio bel piatto di pasta, cioè ci sono tutti quelli, è vero? Perché per un buon piatto di pasta ci vuole anche un po' di tempo per realizzarlo, ci vuole una mamma che lo prepari o qualcuno, ecco, non è così facile. Ti sentirei professoressa, ti sentirei. Ti senta, prego. Ti senta, prego. Beh, innanzitutto dico a tutti che adesso ho passato i 50 anni da poco, o il mio peso forma è perfetto, mangio 150 grammi di pasta al giorno, tutti mi dicono, oh non è possibile. 150 grammi di pasta al giorno? Ma li mangia, diciamo, quindi li mangia a pranzo immagino. O a pranzo o anche a cena. Quindi mi rivolgo soprattutto, scusi, mi rivolgo a mia moglie, che quando dice, no ma 150 grammi sono esagerati, scusa, hai visto? Cioè 150 grammi, tra l'altro io mantengo una silhouette straordinaria, anche lo scrittore, e quindi 150 grammi abbondiamo, abbondiamo, va bene? Poi si deve avere cura e attenzione al condimento, che deve essere il più naturale possibile. Ecco, sono tutti i sughetti, tutto quello che le nostre mamme o le nostre mogli, ma anche noi uomini sappiamo così bene. Mentre il condimento della pasta è naturale, perché la pasta delle origini era questa. E oggi che pasta mangiamo? Oggi, lei che è studioso, scrittore, ha studiato un po' la sua, ma oggi noi che pasta mangiamo? Quando andiamo al supermercato e compriamo, non diciamo la marca, ma che pasta mangiamo? Ci sono delle paste alimentari industriali che sono decisamente buone, altre non lo sono. Per i sistemi di essiccazione, prevalentemente con le alte temperature, il prodotto viene vetrificato e diciamo perde quelle sue caratteristiche. Di contro, i piccoli produttori artigianali italiani danno un prodotto di assoluta qualità, producono piccole partite e siccano alle basse temperature e questo ci dà una pasta che è simile alle caratteristiche delle origini. Siamo lontani al 1154, quando da Termini e Trabbia si faceva la pasta con il mulino, c'è proprio scena meravigliosa. Certo, che poi al di là dei campanilismi tra le due città che io posso dire che non sono mai esistiti prima della traduzione completa dell'opera di Idrisi che è avvenuta tra il 70 e il 1984, dove fu scritto questo discorso, a Trabbia ho visto, ma subito dopo dice a Trabbia scorreva il fiume di Termini, quindi un po' di confusione. Il campanilismo non c'è mai stato tra le due città e tra i produttori e i racconti teorali dei produttori di questo meraviglioso prodotto e subito dopo è tutto rientrato perché l'eternostoria ci aiuta e ci aiutano i racconti di tutti questi uomini e di queste donne che hanno contribuito a fare grande la pasta secca siciliana e a portarla in tutto il mondo. E appunto l'articolista dice bene, non si può dire dove è nata perché viene fuori dalla buona volontà di quella prima massaia che mette insieme la farina con l'acqua. Tutto lì. Nel 2005 è uscito un mio romanzo, che è la voce del maestrale, che parlava della vita di queste famiglie di poestai nel periodo più importante della loro storia, quella dell'esportazione all'estero negli Stati Uniti. Questo romanzo viene presentato e all'epoca c'erano i due primi cittadini e dicevano la mia e mia. Ho detto signori, scusate, posso dire una cosa? Sono figlio, nipote e pronipote di pastai da entrambi i rami della famiglia. Luna produceva termini, la materna attrabbia. Posso dire una cosa? Ecco, non puoi schierarti sicuramente. La pasta non si può dire dove è nata, ma non è un problema di schieramento, è un problema di verità. Tra l'altro le informazioni su di lei si possono ritracciare anche su nunceorusso.it se non sbaglio. Lo sa che quando ho visto questo sito mi è piaciuta molto l'immagine che c'è sulla sua home page. c'è lei con... Sono loro e sono riportati nella copertina della voce del maestrale che tra l'altro ha vinto un premio letterario l'anno scorso a settembre, il premio Elmo 2014 per la sezione scrittori. Sono i miei nonni. Sono i tuoi nonni. Sono i miei nonni e sono lì per questo motivo, proprio per dire che non ci può essere campanilismo tra le due città per la pasta, perché l'uno è di Trabbia, lei è di Termini Mereese. Secondo me questa foto rappresenta solo il fatto che non ci fosse campanilismo oppure proprio una voglia di ricordare, di una marcord un po' delle vecchie tradizioni della genuità anche dei suoi nonni. Di tutta la vita di quell'epoca oserei dire, perché in questo romanzo come in tutti gli altri lavori che ho fatto di scrittura, una cosa è fondamentale, la gente vive le proprie esperienze, i propri vissuti, i propri amori, le proprie delusioni, i successi e gli insuccessi come nel caso delle imprese, ma sempre riesce a risalire la china grazie a quei valori più sacri che si ritrovano all'interno della famiglia. E' lì che c'è la vera forza dell'uomo e che non va dispersa, almeno questo è il mio pensiero ed è questa che non lascia mai da solo alcuno. Questa è la copertina del romanzo della pasta italiana che appunto potete trovare, potete quindi trovare sia nelle librerie che su formato ebook. C'è anche il formato ebook ed è su tutti i maggiori web store del mondo serviti dalla piattaforma di distribuzione che è la Steak. Stiamo volando un'altra parte del libro, nell'escursus storico si arriva fino ai nostri giorni dove si vedono la nascita della pasta al germe di soia, che è un'altra parte, vuole commentarla anche lei questa parte del libro? Sì. Che bello interrogare la professoressa, è bello, è una soddisfazione proprio che mi sto prendendo, mi dispiace, ma io fare le domande a una professoressa di Latina e Greco lo sognavo da una vita, quindi per favore professoressa mi dica questa parte del germe di soia. Sì, perché è una coniugazione, se posso usare il mio termine specifico, tra occidente e oriente. Un po' il pensare che la pasta non può avere soltanto una tradizione, una natura soltanto occidentale, ma pensare anche alla soia, che è un prodotto orientale, renderlo anche molto più leggero, anche per i problemi di salute che noi tutti abbiamo, dal colesterolo in giù, diciamo, tutte queste problematiche, eccetera, proprio anche vedere l'aspetto salutare dell'alimento, che è la cosa più importante, perché a parte la bontà su cui noi italiani non possiamo, come dire, avere dubbi, poi c'è anche l'aspetto salutare rispetto agli altri elementi. L'unico pastificio al mondo che produce tutto ciò è il pastificio Filiberto Bianconi? Sì, tra l'altro la prefazione di questo libro, del romanzo della pasta italiana, questo breve esaggio, è stata scritta con entusiasmo da due grandi amici della pasta, ma anche e soprattutto due scienziati, due ricercatori di Chiafama, Carlo Clerici, che è docente all'Università di Perugia e direttore della clinica di gastroenterologia all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia, e il professor Kenneth Satchel, che è docente di pediatria a Cincinnati ed è direttore del laboratorio di spettometria di massa all'ospedale dei bambini di Cincinnati negli Stati Uniti. Sono proprio loro e ai loro studi che hanno consentito di far diventare la pasta in effetto anche un alimento funzionale in grado di prevenire certe patologie. Il professor Ketchel è premio Roche 2003 per l'innovazione nel campo della Nutrizione e le loro ricerche sulla pasta hanno portato a pubblicazioni ripetute sulle maggiori riviste mediche e scientifiche internazionali come Diabetes Carre e The Journal of Nutrition. Quindi questo è il presente e anche il futuro di questo nostro nobile alimento. La cosa bella e che rende tutto attuale è vedere come si arriva a questo futuro e questo parte dal nostro territorio, dal territorio e dall'Interland della città di Termini-Merese e della carissima Trabbia. E' la carissima Trabbia. Ed è la verità. E allora l'impegno che è una docente dell'istituto classico Gdulena di Termini qual è per il futuro anche nei confronti di questo argomento visto che insomma è importante. Sicuramente intanto l'aspetto educativo perché come dicevo poco fa come dire questo problema della nutrizione è un problema che va affrontato prima di tutto nelle classi poi è chiaro che ci vorrebbe un programma molto più ampio diciamo anche a livello sociale perché noi come dire siamo bombardati dalla pubblicità in un determinato senso eccetera anche dai cambiamenti all'interno delle famiglie e nel modo di vivere. E poi mi piacerebbe continuare questo lavoro di studio, di ricerca. Perché lei si è appassionata così tanto anche di questo romanzo? Allora prima di tutto non si è russa, è un mio amico da più di dieci anni e quindi seguo i suoi percorsi. Quindi anche lei diciamo a tavola si mangia 150 grammi di pasta. Ho iniziato per problemi di salute ho iniziato, io vengo da una cattiva alimentazione diciamo così spiccio. Quindi adesso abbondiamo con la pasta. Ho imparato ecco. Devo dire che è un salvavita. È un salvavita esatto. La pasta anche. Sì, però poi si scrive pure bene perché questi testi sono scritti molto bene. Dica qualcosa al suo amico che non ha detto mai? Che cosa? Pubblicamente, in televisione. Le faccio un complimento, un aggettivo che non gli ho detto mai in privato. Un aggettivo, un complimento? Innovativo. Innovativo. Pur essendo legato alle tradizioni innovativo perché solo da lì si può fare l'innovazione. Perché carissimo bisogna sempre tenere presente che abbiamo il dovere di innovare per le nuove generazioni mantenendo in ogni caso vivo il meglio che ci è stato tramandato dal passato. Bene, io penso che con questa parte così romantica anche tra due amici, tra due professionisti possiamo concludere consigliandovi il romanzo della pasta italiana. Lo trovate appunto nelle migliori librerie con anche il formato ebook. Andate anche sul blog di Nunzio Russo e potete avere tutte le informazioni. In questo caso io appunto ringrazio Credo Scopio delle Madonie che ha avuto questa lungimiranza su questa tematica molto importante. Quindi saluto. Nunzio Russo, grazie per essere stato con noi. Ci vediamo per qualche altra opera importante. la professoressa Francesca Caronna del liceo classico di Termini Meresi. Grazie, buona giornata e mi saluti tutti gli alunni. Sicuramente. Prima o poi vi verrò a trovare. Mi fa piacere, questo è un impegno. Guardi, non entro in quell'istituto dagli esami di naturalità. Pensi un po' quanto sono rimasto provato. Allora bisogna recuperare. Recuperare l'entrata, i rapporti. Perché se lei mi propone sempre una versione di che che è latino, l'effetto sarà sempre quello. Un po' di colite insomma che mi arriva. Non vorrei. Va bene, adesso invece parliamo di confesercenti con il presidente che è già nei nostri studi. Subito però vediamo un po' di pubblicità. Guarda che tv e poi ritorniamo qui con noi. Prego.